Allora il problema è essenzialmente questo, c'è gente in Unione Europea, alla Commissione Europea, che pur non essendo state elette democraticamente, ci dice a noi non solo che obiettivi dobbiamo raggiungere, e questo da un lato è anche giusto perché per stare nel contesto europeo ci vogliono dei criteri precisi, ma che metodo utilizzare? Io devo dire, io Unione Europea, devo dire ai greci come devono raggiungere e fare la riforma delle pensioni, noi abbiamo fatto la stessa cosa in Italia quando abbiamo adottato la legge Fornero imposta dall'Unione Europea e in quel momento eravamo governati dall'ambasciatore della Troica che era Mario Monti, questa riforma ha distrutto alcune famiglie, non dimentichiamoci queste cose. Allora noi oggi dobbiamo decidere se utilizzare l'esempio della Grecia e il tentativo di riportare un po' di democrazia all'interno dell'Unione Europea da parte della Grecia per cambiare l'Unione Europea e per dirci che certe cose si possono fare e certe cose non si possono fare. A tutela delle persone, a tutela della gente, noi non possiamo far morire di fame la nostra gente per i vincoli dell'Unione Europea. Qualcosa va cambiato e qui facciamo una bella analisi del lavoro di Matteo Renzi del Partito Democratico perché io mi ricordo la vittoria alle elezioni europee del Partito Democratico e le dichiarazioni di Matteo Renzi del Presidente del Consiglio Matteo Renzi che ci aveva spiegato che avrebbe cambiato l'Unione Europea, avrebbe cambiato i vincoli dell'Unione Europea grazie a questo risultato, avrebbe utilizzato la presidenza del semestre europeo per cambiare tutti i limiti dei patti e dei vincoli imposti dall'Unione Europea. E se oggi i greci decidono di votare e di scegliere quello che è bene per loro è giusto perché è democratico e nessuno può dire che questa cosa è sbagliata. Possiamo discutere se è meglio che votino sì o che votino no, ma non si discute sull'atteggiamento democratico del governo greco che porta al referendum il popolo greco. Sulla democrazia non si può discutere, bisogna piantarla con questa cosa.